Continuerò a non replicare fino a quando la magistratura non si esprimerà, così aveva scritto Francesco Spina nel post a commento di un nostro servizio nel quale parlavamo del suo nuovo ennesimo partito. Ma coerente come al solito, ovvero Ombre Vertical, a meno di 24 ore non solo ha nuovamente replicato, ma lo ha fatto indirizzando addirittura un personale videomessaggio su Facebook all'amico Roberto. Grazie amico Francesco, quanto onore. Purtroppo anche in questa occasione l'amico sindaco di centro non riesce ad evitare falsità e mistificazioni, è più forte di lui. Conseguentemente, sia pur al rischio di cadere nella farsa, siamo costretti a correggere e puntualizzare le sue affermazioni, ristabilendo la verità dei fatti. È falso, come afferma l'amico presidente di centro-destra, che gli dedichiamo servizi quotidiani. I nostri commenti saranno mediamente un paio al mese, i nostri TG sono tutti online, controllare per credere. Le offese a Biceglia e i Bicegliesi esistono solo nella sua fantasia, al contrario ne abbiamo invece grandissima considerazione. L'amico coordinatore di centro-sinistra, dai suoi numerosi addetti stampa e portavoce, dovrebbe farsi spiegare cos'è l'ironia, il sarcasmo e il paradosso. Abbiamo la sensazione, infatti, che l'amico Francesco, sia come quella moglie che quando il marito gli disse oggi mangerei volentieri due fagioli, gliene cucinò due di numero. Gli stessi dovrebbero ricordargli che a un giornalista il diritto di cronaca, critiche e opinione è sancito dalla Costituzione. E farlo non significa trasformarsi da arbitro in giocatore. Ha mai sentito parlare di editoriali, articoli di fondo? Non siamo la sua controparte. Esprimiamo delle opinioni, quindi eviti comiche sfide a duelli rusticani davanti a giornalisti pseudo-terzi. Ma veniamo alle falsità più gravi. Non abbiamo mai, assolutamente mai, detto di essere il giornalista migliore del territorio. Al contrario, affermiamo che ci siano molti giornalisti più bravi, come può testimoniare chiunque ci conosca. È vero, invece, che rivendichiamo per Telesveva, di cui siamo semplici dipendenti, un ruolo di primo piano sul territorio. E chiediamo tale riconoscimento anche nelle pianificazioni. Lo riteniamo assolutamente legittimo, così come legittimo che le altre emittenti tirino acqua al proprio mulino. Ma nel curioso convincimento di Spina, Telesveva, Telenorbe e Rai 1 sono la stessa cosa. Soprattutto, altra falsità, non ci autoaccusiamo di nulla. Nel suo post, l'amico segretario provinciale scrive che Biceglia non cede ai nostri ricatti e che le nostre contumelie hanno un'unica finalità che tutti conoscono. Quale ricatto? Quale finalità? Dato che ci siamo scocciati di calunniose insinuazioni, abbiamo riportato delle sue affermazioni riferiteci da numerosi conoscenti comuni, di cui non facciamo i nomi in un servizio televisivo, ma che, se sarà necessario, indicheremo nelle opportune sedi. E cioè che le nostre critiche sarebbero dovute al fatto che il Comune di Biceglia non pianifica la comunicazione istituzionale su Telesveva. Già ieri abbiamo dimostrato quanto sia non vero e che è avvenuto esattamente il contrario e cioè che sono state sospese per le nostre critiche. Sempre online, chiunque potrà controllare come sia le nostre critiche che le centinaia di servizi attestanti, l'azione politica e amministrativa dell'amico Spina siano analoghe sia prima che dopo la sospensione delle pianificazioni istituzionali. E veniamo agli inviti alle nostre trasmissioni. L'amico Spina purtroppo è abituato a poter sproloquiare a suo piacimento, ma da noi non è così. Per gli elenchi degli avvocati. E' quello che ha ben iniziato di più. Allora non c'era l'ufficio legale. Abbiate pazienza. Se date gli incarichi all'esterno significa che è fasullo, ammesso che sia stato istituito. Se devo rispondere mi fa parlare. Eh sì, però diciamo... Però faccia venire Casella ed è meglio. Ci confrontiamo con Casella. Non lo so, se non devo fare delle domande non le fa. Lei fa un comizio, stacchiamo quando arriviamo a 40 minuti e diciamo suona la campana. Qual è la sua posizione adesso in rapporto al patto territoriale? Lei mi interrompe. Salvo quelli che non abbiano, lo stavo dicendo, programmazione per finalità. Avvocato però diciamo, io sono qui per fare delle domande e sono qui anche per interlocuire. Se i comizi li fate in piazza. All'amico Spina non piace questo tipo di intervista. È preso atto delle sue proteste, del suo fastidio, della sua insofferenza, delle accuse di essergli pregiudizialmente controparte. Addirittura di fare la parte di Casella, suo oppositore politico, gli abbiamo fatto cosa gradita, non invitandolo più, lasciandolo a testate, secondo lui meno ostili. Infine le querele non ci impressionano e non ne abbiamo mai chiesto il ritiro. Se un politico si sente diffamato ha il diritto di tutelarsi. Ma come dicevamo ieri, oltre a fare le querele bisogna vincere i processi. E su questo siamo assolutamente tranquilli. Teniamo comunque a ribadire che a personalizzare la polemica non siamo stati certamente noi, ma chi non è capace di distinguere i rapporti professionali da quelli personali. Tant'è che è i molti che ci chiedono perché non facciamo pace. Rispondiamo che non possiamo farla perché non abbiamo mai litigato. Semplicemente noi facciamo il nostro mestiere. L'amico Francesco faccia il suo, senza l'arroganza dei politici, che oltre a soldi e potere pensano di aver diritto di maneggiare anche i giornalisti.